paradiso canto settimo osanna sanctus deus sabaot super illustrans claritate tua felice signes orum malacot così volgendosi alla nota sua fu viso a me cantare essa sustanza sopra la qual doppio lume s addua ed essa e l'altre mossero a sua danza e quasi velocissime faville mi si velar di subita distanza io dubitava e dicea dille dille fra me dille dicea alla mia donna che mi diseta con le dolci stille ma quella reverenza che si indonna di tutto me pur per be e perice mi richinava come l'uomo cassonna poco sofferse mecco tal beatrice e cominciò raggiandomi d'un riso tal che nel foco faria l'uomo felice secondo mio infallibile avviso come giusta vendetta giustamente punita fosse da in pensier miso ma io ti solverò tosto la mente e tu ascolta che le mie parole di gran sentenza ti faran presente per non soffrire alla virtù che vole freno a suo prode quell'uomo che non nacque dannando sé dannò tutta sua prole onde l'umana specie inferma giacque giù per secoli molti in grande errore finch'al verbo di dio discende il piacque o la natura che dal suo fattore s'era allungata unì a sé in persona con l'atto sol del suo eterno amore ordrizza il viso a quel cor si ragiona questa natura al suo fattore unita qual fu creata fu sincera e buona ma per sé stessa pur fu ella sbandita di paradiso però che si torse da via di verità e da sua vita la pena dunque che la croce porse sa la natura assunta si misura nulla giamai si giustamente morse e così nulla fu di tanta ingiura guardando alla persona che sofferse in che era contratta tal natura però ad un atto uscir cose diverse caddio e a giudei piacque una morte per lei tremò la terra e il ciel saperse non ti dè oramai parer più forte quando si dice che giusta vendetta poscia vengiata fu da giusta corte ma io veggior la tua mente ristretta di pensiero in pensier dentro ad un nodo del qual con gran disio solver s'aspetta tu dici ben discerno ciò chi odo ma perché dio volesse me occulto a nostra redenzione pur questo modo questo decreto frate sta sepulto agli occhi di ciascuno il cui ingegno nella fiamma d'amor non è adulto veramente però che a questo segno molto si mira e poco si discerne dirò perché tal modo fu più degno la divina bontà che da sé sperne ogni livore ardendo in sé sfavilla sì che dispiega le bellezze etterne ciò che da lei senza mezzo distilla non ha poi fine perché non si muove la sua imprenta quando ella sigilla ciò che da essa senza mezzo piove libero è tutto perché non soggiace alla virtute delle cose nove più l'è conforme e però più le piace che l'ardor santo c'ogni cosa raggia nella più somigliante e più vivace di tutte queste dote s'avvantaggia l'umana creatura e s'una manca di sua nobilità convien che caggia solo il peccato è quel che la disfranca e falla dissimile al sommo bene perché del lume suo poco si imbianca e in sua dignità mai non rivene se non riempie dove colpa vota contra mal di lettar con giuste pene vostra natura quando peccò tota nel seme suo da queste dignità di come di paradiso fu remota né ricovrar potiensi se tu badi ben sottilmente per alcuna via senza passar per un di questi guadi o che dio solo per sua cortesia dimesso avesse o che l'uomo per se isso avesse soddisfatto a sua follia ficca mo l'occhio per entro l'abisso dell'eterno consiglio quanto puoi al mio parlar distrettamente fisso non potea l'uomo né termini suoi mai soddisfar per non potere ir giuso con umiltate obbediendo poi quando disobbediendo intese ir suso e questa è la cagion perché l'uomo fue da poter soddisfar per se dischiuso dunque a dio convenia con le vie sue riparar l'uomo a sua intera vita dico con l'una ovver con a men due ma perché l'ovra tanto è più gradita dall'operante quanto più appresenta della bontà del core ondelle uscita la divina bontà che il mondo imprenta di proceder per tutte le sue vie a rilevarvi suso fu contenta né tra l'ultima notte il primo die si è alto si magnifico processo o per l'una o per l'altra fu offie che più largo fu dio a dar se stesso per far l'uomo sufficiente a rilevarsi che se le avesse sol da sé dimesso e tutti gli altri modi erano scarsi alla giustizia se il figliuol di dio non fosse umiliato ad incarnarsi or per empierti bene ogni edisio ritorno a dichiararti in alcun loco perché tu veggi lì così com'io tu dici io veggio l'acqua io veggio il fuoco l'aere e la terra e tutte le ormisture venire a corruzione e durar poco e queste cose pur furon creature perché se ciò che è detto è stato vero esser dovrien da corruzione sicure gli angeli frate e il paese sincero nel qual tu sei dir si possono creati siccome sono in loro essere intero ma gli alimenti che tu hai nomati e quelle cose che di lor si fanno da creata virtù sono informati creata fu la materia che elli hanno creata fu la virtù informante in queste stelle che intorno a lor vanno l'anima d'ogni e brutto e delle piante di complession potenziata tira lo raggio e il moto delle luci sante ma vostra vita senza mezzo spira la somma beninanza e la innamora di sé sicché poi sempre la disira e quinci puoi argomentare ancora vostra resurrezion se tu ripensi come l'umana carne fessi allora che li primi parenti entrambo fensi grazie 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 a tutti